Eccoci cari amici del canale con un altro video significativo, la Mani, questa azienda che oramai è affiliata a questo canale da molti anni, ebbene sta dimostrando costantemente la sua serietà e anche la sua protezione per la produzione di prodotti che possano essere quanto più utili a tutti gli amici del canale in ambito fai da te. Perché parlo di fai da te quando c'è un prodotto finito? Perché tanti di voi amici del canale, soprattutto gli inesperti, non se la sentono di montare batterie partendo dalle celle, poi mettendo il BMS, i busbar, tutte le connessioni, i settaggi. Allora ecco che questo diventava per molti un impedimento, ebbene la possibilità di avere adesso tutte queste batterie pronte è uno slancio per l'energia alternativa, che siano della tipologia, la prima che la Mani fece con questi box neri, poi diventato box bianco, con queste ruote a rullo, le prime che ha presentato a livello veramente mondiale, e che sono anche presenti sotto questo impianto già pronto. Ragazzi qui parliamo di 30 kWh di batterie litio-ferro-fosfato, che sono tra le più sicure per la costruzione dei nostri impianti, perché non sono come le lione, le lipo che esplodono, bruciano, e lo sappiamo benissimo, abbiamo visto anche tante scene, tanti video, e la cronaca ne parla anche e soprattutto nelle auto. E qua sopra abbiamo un inverter da 10 kV ampere, ovvero 8 kWh di potenza continua, insomma con un impianto così, con 30 kWh di batterie e 8 kWh di potenza continua, 8 kWh di potenza continua, ragazzi una casa, ma anche un'attività commerciale viene alimentata veramente ai massimi livelli. Ragazzi fra 4 secondi vediamo tutti i dettagli, buona visione. Ebbene ragazzi la prima cosa che voglio dirvi è che l'inverter che c'è qua dentro è esattamente l'inverter che avete già acquistato singolarmente, questo esterno. Quindi è un inverter toroidale, ibrido, è un inverter con due toroidi che sono stati dislocati all'interno di questo impianto e quindi già in quarta partiamo con una logica molto affine al canale, della quale la mani ci tiene a rimanere molto molto legata, ovvero parliamo di toroidi, quindi consumo in stand by bassissimo. Questo inverter l'ho testato qui in laboratorio, un po' di tempo che è qua che fa andare tutto ciò che c'è nel laboratorio, in questo momento è in funzione ragazzi, c'è attaccata anche ovviamente in uscita la 230, quello che state vedendo, le luci, frigorifero, è tutto funzionante grazie a questo inverter. Ebbene io lo sto facendo andare anche con la carica dei 4 pannelli della manida 550 W posizionati sulle due vetrine che vanno verso sud. Ebbene ragazzi la carica di questi pannelli che sono posti in verticale sulle vetrine, quindi già hanno anche il freno del vetro, ebbene sono sufficienti per caricare e non solo mantenere questo inverter, ma questo perché è possibile? È possibile grazie anche al fatto che gli inverter toroidali consumano molto meno degli ibridi. E quindi con questi qualche decina di watt di assorbimento, in questo caso siamo intorno ai 35 W, ebbene ragazzi andiamo avanti veramente in maniera positiva. Immaginiamo di avere un inverter che è un ibrido e ha un consumo in stand by di 70-80 W e continui, perché questo è il consumo dell'ibrido. E attenzione a quello che in Cina vi dicono, il mio consumo è 50-40, non è vero. E poi andate a lamentarvi in Cina a 10.000 km di distanza. Ebbene toroidali sempre. Perché si chiama toroidale ibrido? Perché all'interno c'è anche il regolatore di carica incorporato. Quanto tollera? 6.400 W fotovoltaici. Sono tanti ragazzi. Ovviamente una delle cose più belle di questo inverter ibrido è che l'MPPT arriva a una tensione di 150 Volt. Quindi ancora una volta siamo all'interno della sicurezza. Comprare una macchina all-in-one con tensione intorno ai 500 Volt massimi, che non lavorano a meno di 200 Volt in maniera sicura. Cosa intendo? Se noi abbiamo un MPPT che lavora a 500 Volt, di solito c'è scritto da 90 a 500 o da 120 a 500, ebbene a 90 non lavora perché si andrà in blocco continuo. Questi inverter ibridi, che siano come qua, come questo, in una struttura a sé, o che siano all'interno degli all-in-one, ebbene hanno una condizione per cui devono lavorare per forza a tre quarti o quattro quinti della loro massima potenza. Ebbene un inverter ibrido per lavorare bene, se è un inverter da 90 a 500 o da 120 a 500, deve lavorare intorno ai 360, 400, 420 Volt. Ebbene ragazzi, vorrei non ripeterlo più, ma con i tanti iscritti che si aggregano a questo canale in maniera piacevole, vi dico che questa tensione in corrente continua è mortale. Quando fate errori sulle stringhe per la combinazione di questi 250, 300, 400, 500 Volt, è mortale. Oggi in commercio ci sono anche degli inverter di marca, che sono anche i 021, tutto quello che volete voi, che arrivano anche a 600 Volt, a 1000 Volt. Ebbene ragazzi, 1000 Volt. A me viene solo a pensarci, eppure io sono un addetto ai lavori, non ho paura delle tensioni cosiddette alte, ma chi è soprattutto all'inizio, chi è consapevole di quanto siano pericolose, levita. Ebbene ragazzi, torniamo a noi, questo toroidale ibrido ha tensioni basse, i pannelli e le stringhe vengono combinate a stringhe da 2, o stringhe da 3, o stringhe da 4, a secondo della descrizione che c'è dietro al pannello. Vi invito a leggere la targhetta che c'è dietro al pannello, dove il VOC e ISC sono i due parametri che ci guidano per andare a fare un impianto cosciente. Ebbene, con questo impianto lavoriamo in sicurezza, e arriviamo praticamente dai pannelli, facciamo stringhe da 3 o stringhe da 4, ci sono dei pannelli da 400 Watt, che sono 35 Volt, ebbene possiamo anche fare stringhe da 4, alleggerire la quantità di cavi sul tetto, e arrivare direttamente al combiner box, passare dal fusibile, andare nelle barre equipotenziali, uscire dal magneto termico ed entrare qua. Qui ci sono due ingressi, anche se poi in parallelo vengono accomunati, cioè vengono raccolti ancora in un parallelo. Quindi noi possiamo arrivare su due connettori posteriori e entrare all'interno di questo macchinario in maniera tranquilla, in maniera serena, perché quando abbiamo costruito stringhe da 140 Volt VOC, in realtà lavorano a 120, 130, 110, ed è questa la sicurezza che voglio sempre mantenere su questo canale. Andiamo avanti con altri dettagli descrittivi. Bene, la prima cosa che voglio fare è avvicinare la telecamera per farvi vedere tutto l'esterno di questo impianto, in modo che andiate a capire anche la qualità dei materiali che sono stati utilizzati. Dopodiché aprirò l'inverter e vi farò vedere dentro la stessa composizione di questo rapportata su un case. Buona visione e buona riflessione ragazzi. Quando realizzate un impianto dovete sempre calcolare tutte le componenti che sono la prima, quanto consumo a casa mia e aggiungete anche quanto potrei consumare se la corrente fosse gratuita, perché questo accade ed è per quello che diventiamo energivori. Il terzo aspetto è dove installerò i pannelli e qui sempre l'avete visto, spendo una parola riguardo dei cari amici che vivono nei condomini, che non hanno gli spazi, non hanno i tetti, non hanno i prati. Ebbene anche per loro c'è sempre qualche video e qualcuno partirà anche a breve per andare a capire come ottimizzare gli spazi, ma tenete presente che purtroppo la prerogativa fondamentale, sine qua noni, inevitabile, è avere uno spazio per appoggiare i pannelli che producono, lo ricordo per alcuni perché mi è stato posto come domanda, soprattutto dai nuovi. Ricordate che il sole scarica a terra circa 1000 watt al metro quadro, la capacità scientifica umana è arrivata adesso a circa il 25%, significa che ogni metro quadro noi possiamo produrre al massimo 250 watt. Quindi quando calcolate la vostra metratura del tetto, del balcone, del terrazzo, delle gronde, di quello che volete voi, ebbene sappiate che possiamo produrre 250 watt al metro. Quindi non fatevi ancora una volta bindolare da chi dice questo è un pannello di nuova tecnologia, produce il doppio degli altri, no il doppio quanto è? Il 50 magari. Adesso con 4 metri quadri spaccheremo le orecchie cinghiali, si diceva in gergo. Assolutamente, quindi il 25% è il massimo, ma c'è anche il 24, il 23, il 22. Il monocristallino un po' di più, il policristallino che tra l'altro nessuno adesso più produce, era ideale per quella che è una condizione panoramica generale di installazione. Il monocristallino va bene soprattutto per gli seguitori, ma oramai abbiamo monocristallini che sono anche un po' più longevi e quindi va bene così. La differenza non era esagerata, le nuove tecnologie stanno portando ad avere adesso pannelli di qualità e con qualche decimo di grado in più di produzione che ogni anno sale e che ci fa ovviamente piacere. Sono scesi anche i costi, avete visto, oggi si può fare veramente un impianto non più come un tempo, ma i costi sono veramente molto molto ridotti rispetto al passato. Abbiamo anche i pannelli usati ragazzi, questi sono utili per chi vuole imparare, ma anche per chi vuole fare impianti a basso costo e avere pannelli da 20-30 euro è sicuramente conveniente. Vediamo adesso di avvicinare la telecamera. Ebbene questo è esattamente l'impianto pronto, batterie 30 kWh e inverter. Qui vediamo il solito pannello di controllo, che serve proprio a vedere quelle che sono tutte le varie condizioni dell'impianto, con i quattro tastini. Qui abbiamo anche la batteria che ci segnala le condizioni, vedete? Qui nello state of charge abbiamo un led acceso, significa che la batteria si trova al 25%. Run significa che tutto sta andando bene. Se non ci fosse qualcosa di positivo ci sarebbe alarm. Bene, qui è tutto ragazzi metallo, tosto, proprio parliamo, non suona come una lamiera ragazzi, questo suona come proprio una barra di metallo. E qui sul lato abbiamo le maniglie ovviamente per l'eventuale trasporto e abbiamo gli interruttori di accensione delle due batterie. Vedete? Questo è l'interruttore di accensione numero 1 e numero 2 delle batterie. Ragazzi le ruote, io qua adesso non riesco a farvele vedere, ma sono le solite della mani, cioè ruote, eccole qua, sì, ruote di un certo livello. Cioè sono le cosiddette ruote a rulli, adesso vediamo se, eccole qua, vedete? Cioè la qualità è eccezionale. Una volta posizionato viene poi fissato attraverso la vite. Il lato opposto ovviamente ci sono le maniglie, come in questo qua, vedete? E poi adesso andiamo a vedere dietro che cosa c'è. Qua dietro ragazzi vediamo i cavi che sono molto molto significativi, che connettano le due batterie in parallelo. Vediamo anche gli interruttori. Questi sono interruttori molto potenti. E poi qua c'è anche la morsettiera con tutti gli agganci, nonché tutte le porte di comunicazione. Scusate ma questo io mentre lo sto testando è già installato, quindi ho difficoltà a farvi vedere le immagini con una certa chiarezza. Però è molto semplice, ma è molto robusto, quindi ci sono tutti i componenti che fanno capire che è stato studiato per durare, soprattutto per non avere cadute di tensione. E non sapete quanto mi piace aprire questi coperchi per vedere che cosa c'è dentro. Questo è un coperchio metallico molto pesante. Ragazzi questo è l'inverter della Mani. È esattamente uguale a quello che alcuni di voi hanno già comprato, il toroidale, ibrido. Ebbene avviciniamo la telecamera per vedere i vari dettagli. Ragazzi non so voi, ma io quando apro le macchine elettroniche provo sempre questo senso di piacere nel vedere come la mente umana riesce a costruire cose meravigliose. Guardate questi toroidi di rame grosso. Questo impianto è funzionante, è in tensione, io so cosa fare, ma ragazzi quando voi aprite le macchine ricordate sempre di sganciare tutte le correnti. La bassa tensione, batteria, la rete in arrivo, la rete in uscita. Qui vediamo i due toroidi di dimensione enorme. E difatti lo sapete che questo inverter da solo pesa una quarantina di chilogrammi. Dopodiché vediamo la scheda madre che è stata appoggiata esattamente sulla zona metallica. Abbiamo ragazzi un buon numero di condensatori che non sono solo quelli che vedete qui, ma sono presenti anche all'interno. Vedete ci sono proprio file di condensatori che vanno a gestire proprio quello che è la combinazione con i MOSFET. Qui ci sono le linee di MOSFET, quella anteriore e quest'altra sono due e la terza è questa che vedete di qua. Vedete i vari sensori di temperatura che servono a rilevare anomalie. Ci sono i relais di contatto, le connessioni, ecco qua cavi significativi che arrivano dal fotovoltaico, sono questi. Sono stati usati i cavi di una certa dimensione. Qui ci sono i fusibili, vedete qua i due fusibili abbinati. Le ventole che servono per l'espulsione del calore che si genera all'interno del cassone. Cavi di una certa dimensione, questi con guaina siliconica telata. Insomma esattamente qui, non mi dilungo perché è esattamente quello che avete già visto nel video precedente, che avete riferito all'inverter in un'altra conformazione, cioè quella da parete. Questo mi piace molto perché da proprio l'idea di un macchinario, ecco qua c'è lo schermo che serve per la visione, nonché la regolazione di tutti i parametri e abbondanti griglie, ovviamente affinché l'aria possa liberamente entrare ed essere espulsa poi da queste. Ebbene ragazzi, il prodotto si presenta compatto, potente, ha tutta l'aria di essere un prodotto longevo. I materiali usati li avete visti, cavi grossi tra batterie per le connessioni varie, connessioni certe, toroidali che non sbagliano mai, basso consumo in standby, insomma tutta la potenza che ci serve per casa nostra. 8 kilowatt sono veramente tanti, sono più del bestione arancione, del quale sono ovviamente sempre affezionatissimo. Vi ricordo che attenzione, il bestione arancione fino a 6 kilowatt è toroidale, se pigliate il 12 kilowatt è lamellare, quindi il consumo in standby è sicuramente più alto. C'è anche il manuale con alcuni cavi, delle connessioni, insomma alcune cose che servono indubbiamente per l'installazione. Ragazzi, penso di aver fatto un video chiaro, semplice, non lungo, ma che possa aver fatto capire a tutti gli amanti del fai da te, gli amanti del fotovoltaico e soprattutto gli amanti della bolletta a 0 euro e casa no gas, che sono le due prerogative fondamentali di questo canale che si può fare. Si può fare, non è una frase mia, ma viene da un famosissimo film che sicuramente anche voi conoscerete e avrete visto. Ragazzi è tutto per questo video, se vi è piaciuto questo prodotto, se la mani vi sembra l'azienda che realmente è, eccetera, insomma mettete un like e iscrivetevi a questo canale perché così andremo avanti unitamente per riuscire a portare quanti più di voi, in qualsiasi condizione, con qualsiasi consumo, a bolletta 0 euro. Al prossimo video! Grazie a tutti!